Nasce da un approccio iniziale diverso rispetto a quello che abitualmente siamo anche riusciti a fare in più partite. Se leggi e reagisci tardi non dico che può capitare, perché poi mi fa male perdere e non mi piace perdere. Però agli occhi miei devo dire che per come ho visto il Taranto ha dimostrato senza dubbio una cattiveria agonistica maggiore, specie nel primo tempo. Quindi è inevitabile che poi quando la partita la metti in un determinato binario puoi gestire anche a livello tattico la partita in modo diverso. Per cui ritengo giusto il risultato. Abbiamo fatto anche poco obiettivamente, abbiamo creato un po' troppo poco. L'occasione più pericolosa è stato il colpo di testa di Arena, dentro o fuori, non lo so. Però questo è il resoconto della fase offensiva. Quindi dobbiamo accettare il verdetto e far sì che questo sia un insegnamento per avere le giuste motivazioni e non sbagliare sabato con il Palermo. Soprattutto in virtù del fatto che ci sono pochi giorni per poter recuperare. Quindi magari questa incazzatura, questa arrabbiatura deve trasformarsi come benzina per affrontare una grande squadra in un momento di forma strepitoso.